Ci sono contatti con Berlusconi? No, Berlusconi, Forza Italia farà la scelta che deve fare, mi sembra che stia andando verso l'alleanza con la Lega di Salvini e di Fratelli d'Italia, ovviamente quella è una strada che noi non possiamo seguire, legittimamente Salvini sceglie la strada politica di una destra lepenista, di una destra che vuole uscire dall'Europa, di una destra che propone cose che poi si sa che non si realizzeranno mai, ovviamente. La flat tax al 14% è una promessa che poi non si realizzerà e che quindi allontanerà ancora di più i cittadini dalle istituzioni della politica. Credo che noi oggi dobbiamo fare una proposta e aprirci a tutti gli altri che hanno voglia di essere alternativi alla sinistra e al Partito Democratico, ma alternativi anche alla destra lepenista.